Arte irregolare. Si tratta di un percorso culturale dedicato alla creatività differente di artisti plastici e figurativi con disagio psichico. È un percorso virtuale dedicato soprattutto alla bellezza nascosta che non trova spazio nei consueti canali espositivi. La rete del web offre la possibilità di far conoscere e diffondere le opere di coloro che a pieno diritto possono essere considerati artisti. Artisti che esprimono la loro sensibilità in modo spontaneo, senza filtri concettuali, senza interessi per la fama o per il mercato. Una specie di antimuseo. Dal web al reale. L'esperienza di arte irregolare, grazie alle numerose collaborazioni con associazioni e denti locali, ha portato al riconoscimento e all'inserimento di nuovi soggetti nel panorama artistico. Presso la Libera Università di Alcatraz sono state organizzate varie edizioni del Festival dell'Arte Irregolare. Il Festival coinvolge esperti d'arte, professionisti del settore ed artisti, in un continuo confronto fra le varie discipline, favorendo così, attraverso le testimonianze degli autori, la promozione dell'outsider art in Italia. Grazie.